Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ETV City. In apertura ancora l'emergenza sanitaria con il punto della situazione sui comuni del Vesuviano. Solo quattro i nuovi positivi a Torre del Greco, ma si registrano anche due decessi. E sempre sull'emergenza sanitaria il governo è al lavoro. Sulle chiusure di Natale, tutta Italia dovrebbe essere in zona rossa durante le festività natalizie. Abbiamo chiesto ai torresi cosa ne pensano in questo provvedimento e se sono d'accordo. Sempre a Torre del Greco, invece, finisce l'emergenza rifiuti dopo la chiusura dello sciopero annunciato per la giornata ieri degli operatori e la nettezza urbana. Le strade tornano pulite, ma non cessano le polemiche. E in chiusura ai dati ISTAT, dati preoccupanti, sono 700.000 i morti del 2020. Un numero così alto non si registrava dal 1944, anno della Seconda Guerra Mondiale. Questo ed altro nei nostri servizi. A Torre del Greco sono 65 le guarigioni registrate nella giornata di ieri, una delle quali dal regime ospedaliero. Certificati anche 4 nuovi casi di positività al Covid-19, tutti i posti in isolamento domiciliare. Comunicato, inoltre, il decesso di due positivi, uno in regime ospedaliero e l'altro in isolamento domiciliare, di classe 1924-1963. Muta quindi il bilancio dei contagi nella città. 29 soggetti ospedalizzati, 389 posti in isolamento domiciliare, 1831 guariti e 55 decessi. Sono 31 i cittadini di Castellammare di Stabia e risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri. Solamente 7 di essi risultano avere sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi contagiati ancora giovani, 4 ragazzi tra gli 11 e 17 anni. Certificate in oltre 3 nuovi guarigioni. 1.585 tuttura positivi, 1.026 guariti e 27 deceduti. A Portici, nei giorni tra l'11 e il 13 dicembre, si registrano 493 tamponi eseguiti ai cittadini con un esito di 29 nuovi contagiati, con una media di meno di 10 persone contagiate al giorno. Migliora dunque la percentuale di positivi sul numero di tamponi, che scende al 5,88%, con un numero di guariti superiore al doppio del numero dei nuovi positivi. Chiusure giuste per evitare un'altra ondata. E' questo il pensiero dei cittadini di Torre del Greco alla luce dei nuovi possibili provvedimenti da parte del governo. L'esecutivo, infatti, starebbe pensando di introdurre ulteriori restrizioni nei giorni di festività, con coprifugo anticipato e sette su bale ai ristoranti. Le telecamere di TV City sono state immattinate nel centro storico della città corallina, per raccogliere le considerazioni dei torresi sui nuovi possibili provvedimenti. Io penso che è meglio stare un po' più attenti, perché vedo che le persone si assemblano troppo. E quindi è meglio di no, speriamo che passi presto, però è meglio così, è meglio un po' più per stare bene dopo. Come sta rispondendo la città alle restrizioni attualmente in vigore? Io vedo che comunque le persone per strada ci sono, comunque vedo che va tutto bene, non vedo nessuna cosa strana. Come sarà per lei il Natale, quindi i giorni delle festività? Saranno molto tristi, perché mia figlia che abita al nord non può venire e non verrà. L'altra figlia mia abita a Torre, però facciamo poi troppo persone a tavola e quindi non verrà neanche, lei sarebbe in tre. Purtroppo non è una cosa sicuramente positiva per il mercato, per le persone che hanno bisogno anche comunque di un attimo di svago per questo periodo natalizio. Speriamo che passi in fretta questo periodo perché non se ne può più. Come sta rispondendo la città alle restrizioni attualmente in vigore? Molte persone stanno provando comunque a comprare anche nei negozi, insomma, per poter far girare l'economia torrese. Però so anche che molte persone si stanno lamentando perché preferiscono magari comprare su internet, magari risparmiano. Come sarà per lei questo Natale, come lo vivrà? E purtroppo non come tutti gli altri anni perché con le restrizioni non possiamo festeggiare, da quello che sappiamo non possiamo stare con tutti i familiari, quindi non sarà un Natale uguale. Il mio pensiero è solo che viene la nozze di Natale di Gesù e poi di stare tutti insieme, però tutta la famiglia insieme, però quest'anno è un po' difficile. Spero che passi e Dio ci aiuti. Sarà un Natale sicuramente inusuale. Un po' più triste, però ci dobbiamo rendere conto che va bene così. Se non passa questo Covid è un problema per tutti. Ci vogliono le restrizioni, perché qua già siamo alle stritte. Se si fa libero tutti l'Italia va a fondo. Meglio 15 giorni di restrizioni che stare un altro anno tra aprire e chiudere i negozi. Come la città di Torre del Greco sta rispondendo a queste attuali restrizioni? Sta rispondendo bene, però i controlli zero, niente. Che la sera ci sono movite, le forze dell'ordine non sono capaci di limitare la movita, perché ci vorrebbero l'esercito. Come vivrà lei questo Natale? In casa con la famiglia, evitando di uscire e di fare assembramenti, per evitare un nuovo lockdown. Sabato scorso per strada non si poteva camminare. Se questa è una cosa normale, dice lei che fa per strada? Se andate a prendere il pane e il salto. Questa è la situazione a Torre. Rispetto per le norme ce ne sono poche, poi ci lamentiamo che aumentano i casi di Covid. Le restrizioni vanno bene, purché si toglie un po' di baldone dalle strade. Siamo più tranquilli, poco tutti, per affrontare un nuovo anno in modo migliore, senza malattie, senza niente. Qua vado il giro, è aperto, è giusto, giallo, arancione, rosso. Non è questo il problema, perché comunque non vanno seguite bene le regole. Speriamo bene che il governo Conti, se ne mette un po' a sud, dà un po' una mano in più a sud. Che devo dire? Speriamo bene per tutti quanti. Auguri buon Natale a tutti quanti e buone feste. Riparte tra le polemiche il servizio di raccolta rifiuti nella città di Torre del Greco. Nella giornata di ieri le strade erano piene di rifiuti, con stanchetti e addirittura ingombranti, che occupavano buona parte dei marciapiedi. Lo sciopero indetto dagli operatori ecologici dell'Abutto l'ha avuto effetto fino alla mezzanotte di lunedì, con il servizio che è ripreso nella notte. Città ripulita, ma non mancano polemiche all'interno dell'azienda responsabile del servizio di raccolta rifiuti del comune Corallino. La Butol continuerà a combattere il fenomeno dell'assenteismo che si regista nel cantiere di Torre del Greco, si afferma in un comunicato stampa. Anche nella giornata odierna, quando era in programma lo sciopero, si legge nella nota, si sono comunque registrate assenze per malattia. Per molti, quindi, l'assenzione dal lavoro programmata è coincisa con un'assenza giustificata. I vertici dirigenziali fanno sapere inoltre che sta per attivarsi una sorta di indagine interna per verificare che il tasso d'assenza intorno al 30% non sia il risultato di dichiarazioni mendaci da parte degli operatori, non escludendo di avviare accertamenti presso le apposite commissioni mediche per le idoneità al lavoro. Attenzione dunque all'interno della Butol, con il timore da parte dei cittadini che le vicissitudini possano ricadere sulla pulizia della città, già duramente provate in altre occasioni dall'emergenza rifiuti. Quest'anno supereremo il tetto dei 700.000 decessi complessivi. È un valore preoccupante perché l'ultima volta che siamo andati oltre questo numero è stato nel 1944, durante la guerra. Lo ha detto il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, intervenuto ad Agorà su Rai 3. Si tratta di una stima perché l'anno non è ancora finito, ha precisato. Nel 2019 il dato era di 647.000 morti. La pandemia ha quindi aumentato di almeno 100.000 unità il numero dei decessi. Non rassicurano nemmeno gli altri dati Istat. Il nostro è un paese sempre più vecchio. Tutte le classi di età sotto i 44 anni vedono diminuire il proprio numero rispetto al 2011, mentre aumentano molto le persone ai 45 anni in su che passano dal 48,2% del 2011 al 53,5% del 2019. L'età media si è innalzata di due anni rispetto al 2011, dal 43 a 45 anni. La Campania, con 42 anni, è la regione con la popolazione più giovane, seguita da Trentino Alto Adige, 43 anni, Sicilia e Calabria, entrambe con 44 anni. La Liguria si conferma la regione con l'età media più elevata, 49 anni. Anche nel 1951 la Campania e la Liguria erano le regioni più giovane e quella più vecchia, ma, per entrambe, l'età media risultava più bassa ai 13-14 anni rispetto a quella registrata nel 2019. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani. Grazie per la cortese attenzione. Grazie per la cortese attenzione. Grazie per lakey! Grazie per la cortese attenzione. In Provelo Rauhold Di Bufone The Anto.